Grazie 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 Sì, che sono! No, sì, scopri le facce! Non si può scoprire! Ma non è te! Sono perso il piccolo! Questo è un po' E' una consigliere che non lo ha utilizzato di voi E ti chiamano aiutati Per chi è aiutato a tutti i ragazzi Non lo ha fatto comunque per me Anche a tutti i ragazzi Non lo ha fatto, non lo ha fatto Non lo ha fatto, non lo ha fatto Non lo ha fatto, non lo ha fatto Non lo ha fatto